Padre, mentre ci doni il pane quotidiano, alimenta in noi la nostalgia del fratello, il bisogno di servirlo. Chiedendo il pane quotidiano, ti domandiamo anche il pane della memoria, la grazia di rinsaldare le radici comune della nostra identità cristiana, radici indispensabili in un tempo in cui l'umanità e le giovani generazioni in particolare rischiano di sentirsi sradicate in mezzo a tante situazioni liquidi, incapace di fondare l'esistenza. Grazie. 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 Grazie.